Buon poveriggio da Via dei Corridori, siamo a due passi dal colonnato di San Pietro, benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo subito con l'udienza generale del mercoledì, nella quale il Santo Padre ha spiegato l'importanza ed il valore della festa. Di quest'ultima il Pontefice ha parlato come di uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. È il tempo per guardare i figli o i nipoti che stanno crescendo e pensare che bello. È il tempo per guardare la nostra casa, gli amici che ospitiamo, la comunità che ci circonda. Il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in un modo speciale. L'eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo, ha dichiarato il Papa, prima di affermare come l'odierna ossessione del profitto possa in qualche modo rovinare la bellezza della festa. In conclusione, ritornando sul tema del lavoro, Papa Francesco ha parlato di coloro che sono schiavi di questo anche al giorno d'oggi. Ascoltiamo ora le parole del Pontefice. E invece sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, eh? Sono sfruttati schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita. Perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo del riposo, soprattutto quello dominicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Dopo aver istituito la giornata mondiale per la preghiera, per la cura del creato, fissata per il primo settembre, Papa Francesco martedì ha svelato il tema per la 49esima giornata mondiale della pace che verrà celebrata il primo gennaio 2016. Vinci l'indifferenza e conquista la pace. È questo lo slogan voluto dal Santo Padre e a renderlo noto è stato il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace che sottolinea la pace va conquistata, non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza conversione, senza creatività e confronto. L'indifferenza del XXI secolo, si legge nel comunicato, è spesso legata a diverse forme di individualismo che producono isolamento, ignoranza, egoismo e dunque disimpegno. Il tema per la giornata mondiale della pace 2016 si lega a quello di quest'anno, non più schiavi ma fratelli, col quale Papa Francesco aveva messo a fuoco un argomento drammatico che lo addolora profondamente. Prosegue senza sosta l'ondata di migranti verso l'Italia. Sono oltre 1.500 quelli che sono stati soccorsi dall'inizio di questa settimana e che hanno riguardato diverse imbarcazioni nel canale di Sicilia. Tra i migranti ci sarebbero oltretutto sempre più cristiani perseguitati. La denuncia è arrivata da parte di Aiuto della Chiesa che soffre, che parla di un incremento del 30% negli ultimi cinque anni. Ed è sempre notevole anche il flusso verso le coste greche. Sono state infatti oltre 60 le operazioni condotte da navi elleniche per risolvere situazioni pericolose da cui sono state tratte in salvo più di 1.400 persone. Lunedì oltre 150 migranti erano arrivati sull'isola di Kos a bordo di sei imbarcazioni provenienti dalla vicina Turchia. La Commissione europea ha intanto stanziato 2,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e del Fondo Sicurezza Interna. Ne beneficeranno 19 stati membri che devono affrontare alti flussi migratori. In cima alla lista c'è l'Italia con 558 milioni e la Grecia con 474 milioni. È tutto anche per oggi, grazie per la cortese e attenzione, buon proseguimento con i programmi di Sale e Luce TV ed appuntamento a martedì prossimo. Grazie per la visione!